è arrivato l'almanacco è arrivato l'oroscopo quindi ci siamo noi mauro e tra un po i dodici segni dell'oroscopo 18 aprile san galdino nome celebrato anche nei famosi promessi sposi compleanni una brava e bella attrice carolina crescentini è nata il 18 aprile del 1980 lei è un'ex modella una conduttrice anche televisiva russa ma conosciuta in italia 18 aprile del 69 natasha stefanenco e allora dall'ariete pesci ma prima la frase del giorno allume di naso attenzione si azzecca per caso ariete venere vi dà una mano a superare le difficoltà e restabilire un più sicuro equilibrio nei rapporti affettivi il dialogo amoroso diventa più intenso e vivace evitate situazioni stagnanti nel lavoro è il momento di agire prendendo di petto le situazioni toro l'atmosfera si alleggerisce permettendovi di sentirvi più tonici e vitali problemi di ordine pratico trovano rapide soluzioni grazie anche ad una ritrovata forma intellettuale molto stimolati sono i contatti sociali in amore stasera evitate ogni complicazione mentale e soprattutto la testardaggine gemelli giornata felice per la vita sentimentale gli interessi comuni ed un ottimo feeling rinsaldano l'unione con chi amate qualche battaglia è invece da vincere nel lavoro non lasciatevi ingannare da giudizi affrettati e poco obiettivi cancro si sciolgono molte tensioni il momento è certamente favorevole per ritrovare grinta e fiducia nei vostri mezzi rimane un po di insoddisfazione nei rapporti sentimentali stimolata la creatività e la voglia di esprimervi senza subire condizionamenti leone grosso potenziale di energie da spendere nel lavoro programmate le vostre attività per evitare le dispersioni e rendere più efficaci i vostri interventi non rinviate un progetto che vi sta a cuore in amore stasera voglia di tenerezza e intensità emotiva vergine fate il punto della situazione con il partner c'è la possibilità così di chiarire molte cose e di ristabilire anche una buona armonia nel lavoro non assecondate critiche malevole guardate oltre ci sono obiettivi importanti su cui fare centro bilancia bisogno di indipendenza in campo lavorativo cautelatevi contro chi cerca di far nascere equivoci la vivacità intellettuale vi stimola ad allargare gli orizzonti degli interessi e delle amicizie nei sentimenti avete voglia di cambiare atmosfera attenzione scorpione possibilità di vivere situazioni più stimolanti che vi danno respiro distogliendovi dalle solite preoccupazioni imprevisti da affrontare con spirito di intraprendenza e gusto per il rischio si approfondisce l'intesa con chi amate stasera accettate un invito rilassante sagittario una situazione familiare problematica può risolversi grazie al vostro intervento nel lavoro non lasciatevi sfuggire una buona occasione per affermarvi non fidatevi delle apparenze e assecondate le vostre più autentiche aspirazioni capricorno ottima spinta per attingere al meglio delle vostre risorse createvi difese contro tutto ciò che potrebbe esercitare su voi un'influenza poco equilibrante forte carica emotiva nei rapporti con chi amate non razionalizzate troppo e vivete con spontaneità le ragioni del cuore acquario potete migliorare i rapporti interpersonali come rendendovi più ricettivi allo stato d'animo di chi vi circonda buone possibilità di chiudere in bellezza una questione familiare dialogo intenso stasera con chi amate pesci forte corrente di simpatia verso nuove conoscenze piena disponibilità con gli altri e intensità nella comunicazione i pianeti nel segno regalano intraprendenza e creatività in amore reesaminate i vostri atteggiamenti passati per restabilire un certo equilibrio atteggiamenti passati per le persone che come rendendo le vostre risorse Grazie.